E andiamo adesso nel Metapontino per parlare della difficile situazione dei lavoratori stagionali ancora senza tetto. Si è tenuto stamani in prefettura Matera un vertice per sbloccare la situazione. Ce ne parla Gianni Quagliarella. L'impegno della cooperativa Polis adesso c'è. Le strutture d'accoglienza per i braccianti stagionali nel Metapontino apriranno quanto prima. È stato un vertice stamani a Matera, convocato dal prefetto Rinaldo Argentieri, a sbloccare la situazione. 25 richiedenti asilo, tuttora accolti a Marconia di Pisticci, saranno trasferiti a breve a Matera. Il primo passo per dare un tetto e servizi accettabili a parte almeno delle migliaia di lavoratori, lo scorso anno furono 15.000, alle prese con la raccolta nei campi del Materano. A denunciare i ritardi è stato Pietro Simonetti del tavolo anticaporalato del Ministero del Lavoro. Dura la sua presa di posizione. I lavoratori stagionali sono ancora sotto i punti e nei ruderi, ha accusato. Il prefetto di Matera e la Regione intervengano. Nel mirino di Simonetti, il centro d'accoglienza provvisorio degli stagionali nel Metapontino. A sette mesi dalla pubblicazione dell'avviso della Regione, per garantire 220 posti letto e servizi ai braccianti, grazie ai fondi europei, per loro non c'è ancora un tetto. L'Arci, che ha vinto il bando per il trasporto, non sa ancora dove accompagnare i lavoratori. Ad aggiudicarsi il bando è stata la cooperativa Polis, sulla base di tre proposte. Un albergo Metaponto, un immobile a Bernalda, un fabbricato a Marconia di Pisticci. Per Simonetti è incredibile come a marzo, con il raccolto ormai al via, centinaia di braccianti debbono ancora trovare riparo in sistemazioni di fortuna.